Lo yacht fantasma di Moretti da un milione di euro è riaffiorato ed è stato immediatamente sequestrato. L'imbarcazione di lusso è stata ritrovata dagli uomini della Guardia di Finanza, appartiene ad Andrea Moretti, il figlio di Antonio, coinvolto assieme al padre nell'inchiesta per autoriciclaggio e riciclaggio, che aveva portato agli arresti domiciliari il capostipite della famiglia Moretti, il figlio di estretti collaboratori, nonché all'interdizione dalle cariche sociali per altri familiari e membri del gruppo. Il panfilo di ben 27 metri, chiamato Lapo Edo, in onore dei figli del proprietario Lapo Edoardo, a un valore di 950 mila euro, era custodito nel comune di Pisa, in zona Tombolo, all'interno di un capannone. La barca in un primo momento era sfuggita ai sequestri di beni della famiglia disposti dal GIP del Tribunale di Arezzo Pier Giorgio Ponticelli. Adesso le fiamme gialle sono riuscite a rintracciarla tramite l'analisi della documentazione contabile. I proprietari, infatti, scaricavano i prezzi di rimessaggio. I militari, una volta recuperate le fatture, tutte rigorosamente messe verso società con sede all'estero, hanno rintracciato l'imbarcazione di lusso. Lo yacht era stato acquisito da una società inglese intestata da Andrea Moretti, con soldi provenienti dalla vendita dell'Outlet DeMolle veicolati su un conto svizzero.